1.263 nuovi casi su 9.386 tamponi per un rapporto del 13,4% tra positivi e test che sale dello 0,2 rispetto a mercoledì facendo riscontrare una sostanziale stabilità della curva del contagio da coronavirus in Puglia. Il dato emerso dal bollettino epidemiologico del 19 novembre porta a 39.347 il totale delle positività al covid registrate nella nostra regione di cui 28.500 attualmente positivi 9.734 guariti e 1.113 deceduti. 28 dei quali 10 provenienti dal Foggiano, 6 dal Tarantino, 5 dal Barese, 4 dal Brindisino, 2 dal Leccese ed 1 dalla Bat sono i decessi odierni. Sale lievemente il numero dei ricoverati, 6 sono i nuovi pazienti ospedalizzati del 19 novembre per un totale di 1.524 in tutta la regione. 26.976 sono i quarantenati. Su scala provinciale il dato più alto resta quello del Barese. I 555 nuovi casi del 19 novembre portano a 15.503 il dato complessivo dell'area del capoluogo di regione. Numeri alti nella Bat e nel Tarantino. Con 189 nuovi positivi la sesta provincia è la seconda più colpita del 19 novembre e vede il suo totale crescere fino a 4.410 pazienti registrati da inizio pandemia. 4.447 invece il totale del Tarantino, zona nella quale nuovi casi sono 187. 154 sono invece nuovi contagi nel Foggiano, provincia nella quale il virus ha maggiore incidenza e nella quale il totale ora di 9.031. Dati leggermente più bassi nel sud della Puglia dove si registrano i 98 nuovi casi del Leccese e i 72 del Brindisino. Totale della provincia di Lecce ora di 2.961 di quella di Brindisi 2.708. A completare il quadro 6 residenti fuori regione e 2 casi dalla provincia non nota. 685.610 il totale dei tamponi processati in Puglia.